Buongiorno a tutti. Benvenuti in un nuovo video del nostro canale in questa splendida lunedì. Oggi parleremo di un giovane italiano che sta emergendo nel calcio italiano e che la Juventus sta cercando di ingaggiare. Questo giocatore, che appartiene all'Ellas Verona, ha 20 anni ed è molto promettente. Arriverà forse un altro accordo tra Verona e Juventus? Rimanete nel video fino alla fine per scoprirlo. Solo qui su Juventus oggi troverete le notizie più rilevanti sulla Juve. Chi non è ancora iscritto, si iscriva al canale. Verona e Juventus potrebbero chiudere un altro accordo nel mercato dei trasferimenti. E qui arriva la grande rivelazione. La Juventus ha messo nella sua lista un giovane difensore italiano di cui non si era mai parlato prima. Diego Coppola è sotto osservazione dalla Juventus e una proposta ufficiale potrebbe arrivare quando il mercato riaprirà. Si parla di una cifra tra i 9 e i 12 milioni di euro, che, a mio parere, è un buon importo, visto che Coppola è molto promettente e potrebbe perfezionare ulteriormente le sue qualità alla Juventus.